ciao amici la chioma di rapunzel o di bob marley è il vostro sogno nel cassetto ma state perdendo i capelli niente panico alcuni cibi ci possono evitare di acquistare una parrucca ma vale anche per i casi disperati come mastro lindo non esagerare parlo di ricrescita non di trapianto di capelli esistono dei cibi salva chioma che incidono sulla ricrescita dei capelli non vi abbattete per una ricrescita lenta o la perdita di capelli la cura alimentare è sempre un buon punto di partenza per superare il tutto infatti una dieta specifica migliora l'aspetto e la salute dei capelli se volete una folta chioma puntate sugli alimenti con ferro proteine vitamine e minerali ma vediamo insieme quali sono gli otto cibi che favoriscono la ricrescita dei capelli se vi piace l'idea intanto mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi ecco gli alimenti 1 uova contengono biotina elemento essenziale per dire addio a capelli deboli secchi e opachi in camicia strapazzate o sode poco importa fanno sempre bene 2 pollo l'alto contenuto proteico e la lisina sono dei tocca sana per la ricrescita dei capelli 3 spinaci questa verdura squisita e ricca di sostanze nutritive e vitamine utili ai capelli la storia dei muscoli di braccio di ferro forse è un mito ma per una chioma sana e forte non resta che provare per credere 4 sardine pronti a dire addio ai capelli secchi sardine e pesce azzurro favoriscono la regolazione delle componenti oleose necessarie alla salute del cuoio capelluto e alla crescita dei capelli 5 noci meglio se del brasile sono ricche di zinco acidi polinsaturi e selenio danno il via a una crescita sana della chioma 6 legumi in cerca di un miracolo per i vostri capelli non serve il genio della lampada fagioli e lenticchie fanno miracoli chioma più folta e robusta ve lo assicuro 7 peperoni gialli ottimi sia da mangiare sia da applicare ai vostri capelli sì avete capito bene applicandoli sui capelli con un impacco favoriscono la circolazione sanguigna del cuoio capelluto 8 miglio è il cereale amico dei capelli per eccellenza tanto che ne hanno fatto un integratore mangiato regolarmente almeno due volte la settimana farà vedere la differenza e io che pensavo che bastasse innaffiare la testa per far crescere i capelli spiritosa guarda che anche le pozioni magiche senza i cibi giusti non funzionano bene amici abbiamo scoperto gli 8 cibi per la ricrescita dei capelli commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche ed ecco il regalino di oggi l'elenco dettagliato dei cibi salva chioma per non dimenticarli vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali iscrivetevi al canale